Domenica 9 dicembre il prefetto di Reggio Calabria ha organizzato con la diocesi di Locri Gerace e l'Università Mediterranea un evento per augurare Buon Natale. La manifestazione si è tenuta al Santuario Madonna dello Scoglio di Placanica con il concerto dell'Avvento. L'esibizione è stata affidata al coro lirico cilea e al coro polifonico dell'Università Mediterranea, con la partecipazione del soprano Katia Fassari, diretti dal maestro Carmen Cantarella, accompagnati dall'Orchestra del Teatro Cilea, diretta da Bruno Tirotta. La cornice del Santuario è fatta da sfondo alle esecuzioni musicali dell'Inno alla Madonna dello Scoglio. Innanzitutto intendo porgere il mio cordiale saluto a Sua Eccellenza il prefetto Michele Ribani, alle autorità civili e militari presenti e a voi tutti, fratelli e sorelle in Cristo. e permettetemi anche di esprimere il mio sentito ringraziamento a Sua Eccellenza il prefetto, per la Sua Gravita Presenza e per aver voluto che il concerto di musica sacra si svolgesse qui a Santa Domenica di Placarca. Proprio in questo noto Santuario Mariano, Nostra Signora dello Scoglio. Grazie di cuore, Eccellenza, il Signore la benedica e la custodisca, e la Santa Vergine le stia sempre vicino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'evento è stato anche occasione per rivolgere il tradizionale messaggio di auguri del prefetto della provincia di Reggio Calabria e del Vescovo della Diocesi di Locri Gerage, Monsignor Oliva, alla comunità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.